Voi promuovete mercanti e bottegai che pensano solo ad arricchirsi come dei maiali e voi questi li chiamate liberali. Ma il liberalismo nel vostro mondo non esiste, anzi non è mai esistito, è un errore perché il mondo continua ad appartenere ai veri individui, agli aristocratici, alle grandi belve bionde che non si fermano davanti a nulla, che non scendono a compromessi e che vi divoreranno a voi socialisti che avete paura del socialismo e vi considerate individualisti. Però adesso mi fermo perché so che non state capendo più nulla e quindi vi toglierò il disturbo. Però una cosa io vi voglio dire, in questa città ci saranno cinque o sei individualisti e tra questi c'è Martin Eden. È la lettura di Spencer, fa strani effetti sui più giovani. Non c'è altro Dio al di fuori dell'ignoto, ed Herbert Spencer è il suo profeta. Perché lei parla di Spencer con me? Lei mi disgusta. Adesso basta, sei insopportabile. Io se sto qua è solamente per te. È solo per te! È solo per te! Con permesso.